Questa sala, che è la sala del Palazzo Nuovo del nostro comune, i palazzi del nostro comune sono nuovi e vecchi, perché quello nuovo è del 1213, quello vecchio, anzi, quello nuovo è del 1263, quello vecchio è del 1213. Questa sala è una sala che è qui da otto secoli. Perché vi parlo di questa sala? Perché nel corso degli anni è stata sede delle assemblee cittadine, sede anche di un teatro tra il 600 e il 700, dalla seconda guerra mondiale sostanzialmente è stata dedicata alle grandi mostre e soprattutto negli anni 60-70 è stata sede di mostre importantissime. Qui hanno esposto tutti i più grandi artisti mondiali di arte moderna e contemporanea e oggi quindi ci inseriamo in un filone che non è monotematico, diciamo è una collettiva ma insomma di un valore di livello straordinario. Grazie davvero, io so lo sforzo che è stato fatto e la fatica anche fisica.